Sorpresa e amarezza per i fedeli della parrocchia di San Pio da Pietrelcina a Mesagne, dove l'arcivescovo Domenico Caliandro ha disposto la sostituzione del parroco, Don Luciano Cheta, a poco più di due anni dalla sua nomina. Al suo posto, già nelle celebrazioni dell'Epifania, è stato inviato Don Giuseppe Pendinelli, rettore della chiesa di San Benedetto a Brindisi, ma che in passato aveva guidato a Mesagne la parrocchia di Mater Domini. Il mistero sulle motivazioni dell'improvvisa rimozione non è chiarito neanche dal messaggio vocale che Don Cheta ha inviato ai fedeli. Certamente troverà tutti voi scioccati da questa comunicazione, perplessi e sbalorditi, però nella vita sono necessarie delle pause, dei momenti per pensare un po' a se stessi, per riflettere sulla propria scelta di vita. Questo è successo a me. Io da ieri sera non sono più in parrocchia e sono a casa a Leverano. Lo scorso anno un altro sacerdote mesagnese, Don Paolo Zofra, parroco della San Lorenzo da Brindisi al rione Sant'Elia, aveva lasciato improvvisamente la guida della parrocchia chiedendo un periodo di riflessione. In questo caso però, prima di ritirarsi nella sua Leverano, Don Luciano ha ritenuto comunque giusto salutare i suoi fedeli. Si apre certamente una nuova fase della mia vita, non so bene dove mi porterà, però vi garantisco che tutto quello che sono lo devo anche a voi, quindi grazie di pure.